Pupi era un appassionato anche lui di cinema e di musica, aveva fatto altri lavori sul piano commerciale, proprio come un commesso viaggiatore e quindi aveva però nutrito sempre questo desiderio di debuttare dietro la macchina da presa. Ed è stato molto bravo perché è venuto a Roma, ha costruito la sua fortuna registrica impazientemente come autore e come imprenditore, anzi direi che proprio è uno dei pochi registri italiani che è stato capace di mettere insieme il suo cammino, il suo percorso, naturalmente trovando i finanziamenti, ma sempre puntando su se stesso e sul fratello Antonio che è il produttore, anzi direi pure il coproduttore. E poi una cosa in più aggiunse Avatti rispetto al panorama del cinema italiano che non era più quello del neorealismo, si affacciava alla commedia italiana, di grandi successi c'erano già stati, pensò che fosse il caso di fare dei generi insoliti per il nostro panorama. I primi film di Pupi effettivamente passano tra la parodia, il grottesco, in qualche modo l'umor nero, c'era qualcosa di macabro, ma sempre con una componente in fondo ironica, compiacente e affettuosa. Non è mai stato un regista delle porte in faccia, è sempre stato un regista a sua dente e man mano che è andato avanti con gli anni ha arricchito il suo bagaglio di lavoro con esperienze le più diverse. In Italia anche con la televisione, dove proprio con alcuni sceneggiati, diciamo tv movie, tipo jazz band, rievocava i tempi di Bologna, i ragazzi che sognavano jazz, sognavano il jazz non solo per il suo valore musicale, ma che ci portava il soffio di una cultura americana anticonformista, alternativa. Del resto gli incontri proprio a Bologna di personaggi come Chad Baker, che era uno giovanissimo e cantava My Funny Valentine, avevano fatto un grande effetto in tutti noi, sia ragazzi che ragazze. E ragazze e ragazzi, come sappiamo, è anche il titolo di un altro film di Pupi, perché devo dire che a rispetto ad altri registi che magari escono, partono dalla loro città e se ne vanno in cerca di fortuna al mondo, riescono anche a fare dei film, vengono a Roma, a Cinecittà, lui ha sempre avuto un piede, più di un piede nella realtà da cui proveniva, ma non c'è la bolognesità, non c'è nulla di retorico, c'è quello che credo giusto, che anche Fellini ha avuto, cioè l'occasione di avere uno sguardo, forse da provinciale, rispetto poi al cinema che si fa nella capitale del cinema, cioè a Cinecittà. Quel passato gli dava la forza ed era un passato in qualche modo in cui i ricordi, le memorie della guerra ancora esistevano, ma subito queste memorie tristi, in qualche caso di sofferenza o di difficoltà, cambiavano e facevano pensare che appunto il jazz, il cinema, tutto ciò che arrivava dall'America allora era in vigore il cosiddetto sogno americano che avrebbe portato in Italia i televisori, le lavatrici, gli elettrodomestici. Tutto questo era un modo di vivere, un American way of life che Avati ha sempre presentato a livello di una sensibilità credibile, anche con un'attenzione alla storia e soprattutto all'umanità dei personaggi.